Bro, appena sono entrato in casa sua, mi fa Ah, ciao Fabio, ascolta, non è che mi puoi mettere la roba a stendere, che se no non faccio in tempo? Cioè, manca di... vuoi un bicchiere d'acqua, capito? Comunque, ti giuro, cioè, dovete cambiare la definizione di ritardato su... su Wikipedia, eh. E mette già Marco Tocco. Sì, mette già la foto, perché non è possibile. Sì, mi... datemi... cioè, io ci metto tre minuti. Un attimino, tre minuti. Ma in tre minuti, sai che cosa te fai? Eh? Una giochessata! Se perdo sta giochessata, stacco la stris... Un giorno sarebbe da fare il contro... il controcoso. Cioè, invece che sali di sub, devi scendere. Dovai? Vado a mettere la roba a posto un attimo. È arrivato Rec! Fuck your mother! No, Fabio, c'ho la 5.000, con la 5.000 non puoi fare un cazzo. No, no, con la 5.000 non puoi fare, devi... Verbania in Piemonte! Dicca, ma dove è il porco Dio sto? Ah, ho capito. Questa mi sa che è il Senegal. E qui devi iniziare a capire tramite gli alberi, eh. No, dovrebbe essere... dovrebbe essere tipo qua. Questa. Inizierete a giocare verso le 23.40. Ma io non voglio iniziare a... India! 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 Eeeh... No, mi devo andare... Mettate, no, è spagnolo, già. India, ho visto! Presidente della Repubblica. India! Colombia, già ma! Perco di Dio, perco di Dio! Lo vedi! Terrenos rusticos, perco di Dio! Oh, Fabio, mi posso scusare con te? Se questa è Sud America, io finisco di vivere, eh. E che può essere? Ma si scrive a Fazzuola, se vuoi fare Among Us. Questa è una bandiera? Sembra la Russia. Può essere, sì. Eh, ma non... La lingua non... Eh, PL. Olanda. Eh sì, eeeh... PL. Plastici... Ah! È il Polacco! È il Polacco! È il Polacco! Ma cos'è questo... Questo cosetto da bruciacquavan? Non è male. Questa ha l'aria di roba tipo... Cecchia. Secondo me, a questo punto, allora, sa, giochiamo tipo da ste parti. Perché, brother... Eeeh... Cecchia e Slovacchia, c'hanno un bollar diverso. È come qui. Sto vivo, regà. Eh, lo vedi? E lo vedi? E lo vedi, bro? E lo vedi? E lo vince! E lo vince! E lo vince! Porco Dio, se non devo sborrare, guarda. Gioca di nuovo, sì. Gioca essere, amo gioca essere. Ah, da Cipro. Sai male, fratello. Da Cipro, da Cipro, da Cipro il troione, da Cipro. No, ma questo è in singolo, non è in duo. È vero che c'è un altro rank lì. Ok, fuck your mother, lifer. Scusami, come fa ad essere la parte nord del mondo questo, bro? Adesso è la Spagna. No, 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 deve andare giù. È una roba, cioè, beh, è andata, regà. È palesemente andata, quella. Oh, hey, 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 sta streeperando! Voglio ciucciare due bei cazzoni! Me la cantava sempre mia madre, quella da picco. Guarda, io se la chiamo la ragazza. Chiudi un po' di tab sopra, cioè, Twitch fa proprio cantare. Regà, ma che porco Dio de Bosto è? Vado, attento maestro. Guarda che cacatus ci sono. Io sarei andato... Oppure io sarei andato in Messico, sei un troione, bassarda! Siamo vivi. Ucraina. Dai che non l'ha visto, dai, non l'ha visto, dai, non l'ha visto. Non avrà visto 100%. Vai in Russia. No, ti devono fulminare. 49 HP. Qui la puoi prendere, maestro. Sto pazzo, sto pazzo, estré. Sto pazzo, a me la gente, quando me vede, si me mette le manette. No, your mother is a... Mintile Beach. Io stacco. Dai, dai! Per la salute, non cosa. Ok, lui l'ha messo meglio di me, ma tranquillo. Lo gioco me nervosisce. Ma che cazzo di macchina è, mo' questa? Macchina del Kenya. Ma non sembra il Kenya, però. Azze, te fidi di The Real Marza tu? Guarda che rift che c'è in cielo. Tu ti fidi del tuo piccolo The Real Marza. Guarda che cosa ti sparo. Però vedi, c'hanno quelle strutture molto islamiche lì. Guarda, guarda che l'ha preso perché mi ha visto la stream. Fuck your mother! Lui lo sa. Eh, vabbè, dai. Le mani trovi delle parete. Oh, ma è uscito a gioco poker con animali, eh? È uscito oggi. Rigo come? È pieno di esordi. Tu sì, Rigo. Tu sei pieno. Devo morire, devo morire, ragazzi. Devo morire, era uno Lulu. Questa... Oh, che troia, porco Dio! Ha preso gli Hawaii, ha preso! Sono pazzo, Gianquestrello, faccio per te. Per i nostri momenti assieme. No, ragazzi, top 3 persone che voglio prendere a cazzotti in bocca. Vai, drago. Ma come fa ad andare sempre più vicino? Ma è la regina delle lande desolate. Ma che cos'è? Ma come fai a saperlo? Godo. Tu guarda quel cartello stop cocoso verde? E vabbè, regà, ho capito! Ma che cosa stiamo scherzando? Ma dove la stai? La so, certo che la so. Contea di Chai Yi. Godo, ma lavatrice è cattiva. È entrato in fatti sera a bastardi. Se non è Australia questa, io veramente. GTA sono Andrea scorsa. Era Vancouver. Vancouver, bro. La Lidl. Bro, guarda, te lo giuro. Questa è la cosa più olandese che abbia mai visto sulla faccia della terra. Se porco... È l'Inghilterra, ragazzi. È l'Inghilterra. Ma io sono... Una R grossa proprio con tutte le lucine girate. No, bro. La roba di qua deve essere. Questa è Turchia, zi. È la Turchia? Sì, sì, sì. È la Mosche. Il Girona ha riperso un'altra volta, frate. Mamma mia. Troia. Io, io e sta... Ma? Atletico Madrid sta a perdere con Benfica. Io e sta a perdere con Lipsia. Oh, lascia star Benfica che sotto casa ci stavano a festeggiare. Potrebbe succedere il macello. Potrebbero accortellate. Stiamo contro il re dei pelati. Questo, frate... Questo, frate... Teara. Te devi fidare di The Real. Questa la vinciamo. Ipadam. Ah. Mette su di me. Ma dove la fai? Non è seul questo. Vabbè, Roy Light? Per Giappone? Dovremmo fare un gas. Era Busan. È Polacchia. Però vado a Lodi. Vado nel Lodigiano. Questo cuore rosso. No, ragazzi. Porco Dio, casa di Gianmarco. Tomas de Berlanga. Da dove viene Tomas de Berlanga? Colombia. Questo è il Messico. Quando mi vengono in miseria. No, però è Panama. Onda 23 febbraio qua, eh. C'era scritto sulla destra. È Panama. Eh, bro, c'era scritto Panama. Io adesso non mi prendo la... Non voglio una tua sclerata in bocca, eh. No, no. Te la prendi in casa. No, no. E' roba spagnola. Ecuador, Tomas. No, vabbè. Ma questo, madonna pesce, guarda. Te lo devo dire. Che è sta macchina? Eh? Questa macchina col cirillico. O quella del Kazakistan. È il Kazakistan. Ma da quando hanno messo il Kazakistan? Sì. L'hanno introdotto adesso. Ma è nuovo veramente, regà. Quindi quella è macchina kazakistana. Scopne. Ma è una cosa incredibile. Scopne. Ah, sì. Mi è Borsin. Questi di Rolfalon. È certo, 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 certo. Ma tanto te lo devo dire, baldissimo. Io te lo dirò, primo o poi. Gianquestre. Sì? Lo faccio per te come ciccio gamer. L'ultima volta non è andata proprio bene, eh. E lui lo prende. E lui la prende. E lui la prende. Ma dove? Lui la prende così, in velocità. Ma tanto, prima o poi, guarda, te investono di Ocane, eh. Eh? Oh, lui. E' incredibile. E' incredibile. Non lo so, potrebbe essere l'Ucraina. No, si chiama mini di massimizzare il tutto. Era l'Ucraina, ma è essere rincoglioniti. Ragazzi! No, la è esplosso. Let's go! Let's go! No, la è esplosso. No, la è esplosso. No, la... No, la è esplosso. No, la è essa. No, la è esplosso. Allora, neieht da…